Operativa da oggi anche in provincia di Sondrio l'iniziativa del Ministero della Difesa. I team formati ognuno da un medico e due infermieri daranno manforte ad ASST e protezione civile nell'individuazione di positivi e dunque nel contenimento del contagio. In attesa di sapere se e quando gli impianti di risalita potranno entrare in funzione, confermate le gare dal 12 al 15 dicembre e se sfide di Coppa del Mondo dovessero saltare in altre località, Santa avanza la propria candidatura. La paura degli operatori del turismo è proprio quella, finire in mutande durante questo secondo lockdown, la provocazione di un ristoratore di Teglio. Un saluto ai telespettatori di TSN, nuovo appuntamento con l'informazione del Tg di Telesondrio News. Si chiama Operazione IGEA e da oggi interessa anche la provincia di Sondrio. Tre unità formate da personale dell'esercito daranno manforte nell'effettuare tamponi in modalità drive-thru, ovvero senza scendere dalla propria automobile per cercare di monitorare i positivi e contenere il più possibile il contagio. Vediamo il servizio di Sara Baldini. Ha preso avvio oggi anche a Sondrio l'operazione IGEA condotta da un team interforze composto da personale dell'esercito e delle altre forze armate che il Ministero della Difesa ha messo a disposizione dei cittadini su tutto il territorio nazionale per incrementare la capacità giornaliera del paese di effettuare tamponi. Si tratta di circa 1.400 unità distribuite in 200 team e in grado di eseguire fino a 30.000 tamponi al giorno. Per la provincia di Sondrio, fino a che è necessario, affiancheranno operatori della SST e volontari della protezione civile tre unità composte ognuna da un medico e due infermieri ed effettueranno i tamponi orofaringei di ricerca del coronavirus in modalità drive-thru, ovvero si accede direttamente in auto senza scendere dalla propria vettura. L'apporto delle unità dell'esercito consentirà di incrementare l'attività di tracciamento della circolazione del virus in un momento in cui la situazione anche in provincia di Sondrio si fa sempre più seria, sia per il numero di persone malate di coronavirus che necessitano di ricovero e al Morelli i posti sono ormai esauriti, sia per la mancanza di personale medico e infermeristico che li dovrebbe seguire. Intanto, anche per il numero sempre maggiore di tamponi effettuati e per la rapidità degli esiti, cresce vertiginosamente il numero dei positivi, tantissimi anche gli asintomatici, che in seguito al tracciamento costringono a quarantene bambini e ragazzi delle scuole dove ancora vige la didattica in presenza. Da oggi tocca ai piccolissimi della scuola di infanzia Colcinella di Sernio, appartenente all'Istituto Comprensivo di Tirano e a una prima primaria della Credaro, sempre di Tirano. Santa Caterina Valfurva punto sullo sci di fondo e attende di sapere quando anche gli impianti di risalita potranno entrare in funzione. Nel frattempo sono state confermate le gare di sci di Coppa Europa dal 12 al 15 dicembre. Santa Caterina inoltre avanza la propria candidatura per ospitare gare di Coppa del Mondo che dovessero saltare in altre località. Ce ne parla Paolo Croce. Ieri abbiamo fatto il punto subormio, oggi tocca a Santa Caterina Valfurva. Ci spostiamo di pochi chilometri ma non cambiano i problemi legati alla ripertura degli impianti di risalita per dare il via alla nuova stagione dello sci. Tante le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, altrettanto forte però è la voglia di ripartire da parte di chi vive di turismo e non ha certo voglia di attendere i famosi e altrettanto insufficienti ristori da parte del governo. Noi ci stiamo preparando, stiamo preparando, è tutto pronto per preparare le piste appena arriva la temperatura. Qua in alto c'è già tutta la neve naturale. Abbiamo confermato le gare di Coppa Europa dal 12 al 15 dicembre. Questo ci permetterà anche di essere pronti eventualmente per un qualsiasi recupero di gare di Coppa del Mondo che potrà servire sicuramente a noi e di supporto alle varie federazioni. Attualmente il protocollo prevede che gare e allenamenti si possono fare per questo motivo ci stiamo preparando al meglio. Per quanto riguarda tutta la sicurezza del Covid siamo già pronti dall'estate scorsa, stiamo solo migliorando ancora di più e dando più sicurezza agli utenti che arriveranno ma è chiaro che tutto quello che succederà prima di Natale è tutto a porte chiuse. Dunque gare confermate e anzi la possibilità di ospitare eventi che dovessero saltare in altre località. Del resto per altitudine, nevamento, posizione geografica, questo angolo di Valtellino offre un ventaglio di possibilità come poche altre località delle Alpi. E anche lo sci di fondo gioca un ruolo importante nell'economia di Santa Caterina. In questa disciplina per ovvi motivi i problemi sono minori e già si prepara il primonello dedicato al fondo. Come proloco di Santa Caterina, gestori dalla pista di fondo, stiamo lavorando in preparazione di questa nostra pista, Valtellina, pista internazionale. E in questi giorni con l'abbassamento delle temperature allestiremo un anello di 3 km per poi ampliarlo successivamente. Stiamo lavorando inoltre sugli spogliatoi, facendoli molto più grandi, ampliando i locali, sia degli spogliatoi sia dei locali sciolinatura per gli ospiti. voglio ricordare anche che lo sci di fondo è uno sport individuale, per cui sicuro anche in questo periodo di Covid. Nazionali di sci di fondo, atleti dei comitati regionali potranno dunque allenarsi quando le temperature lo consentiranno sull'anello di Santa Caterina. Il turismo a Valfurva vuole ripartire. La città di Sondrio guadagna il terzo gradino del podio regionale in tema di performance ambientali. Nel rapporto dal titolo Ecosistema Urbano 2020, stilato da Lega Ambiente su un campione di 104 città, il nostro capoluogo si piazza in diciottesima posizione su scala nazionale. Ne parliamo nel prossimo servizio, sentiamo. Mantua, Cremona e poi Sondrio. Questo il podio nella sola regione Lombardia secondo Ecosistema Urbano 2020, report annuale sulle performance ambientali dei capoluoghi italiani, stilato da Lega Ambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 ore. Nella classifica assoluta, quella nazionale dedicata alle buone pratiche, tra cui la raccolta differenziata, il nostro capoluogo si piazza in diciottesima posizione. Aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano, energia. Questi gli indicatori presi in considerazione nel documento elaborato da Lega Ambiente e che attinge anche a dati ISPRA, ISTAT e ACI per quanto concerne rispettivamente uso efficiente del suolo, capacità di depurazione e verde e tasso di motorizzazione ed incidenti stradali. 104 i capoluoghi presi in esame lungo tutto lo stivale con la valutazione tanto dei fattori di pressione e della qualità delle componenti ambientali quanto della capacità di risposta e di gestione ambientale. Dall'identikit di Lega Ambiente la Lombardia è divisa. Da una parte il rispetto tutto sommato costante di buone abitudini, come ad esempio la raccolta differenziata, dall'altra l'inquinamento atmosferico, problema che ad oggi appare lontano dal trovare una soluzione. Come ha dichiarato Barbara Meggetto, presidente di Lega Ambiente Lombardia, quest'anno ecosistema urbano assume un significato particolare perché fotografa la situazione delle nostre città appena prima dello tsunami covid. Proprio per questo il quadro che ne emerge ci deve servire per fissare nuovi parametri per i mesi che verranno. Su scala nazionale Milano, in 29esima posizione, conferma un distacco netto nei confronti della capitale, solo 89esima, confermando quanto la metropoli lombarda sia quella che più di tutte, negli ultimi anni, ha tentato di spostare sempre più su l'asticella della vivibilità urbana, riuscendo a rendere stabili alcuni cambiamenti. La provocazione di un ristoratore di Teglio che, insieme ai piatti di asporto, propone la vendita di biancheria intima con in omaggio il proprio vino. Con l'arma dell'ironia si torna così a discutere di quanto sia difficile questo periodo per bar, ristoranti, pizzerie ed alberghi. La paura degli operatori del turismo è proprio questa, di finire in mutande durante il lockdown. Paolo Croce. Una provocazione, quella lanciata da Piero Reghenzani, noto ristoratore di Teglio. Piero fa sue, usando l'ironia alle improvvide parole di Laura Castelli, vice ministro dell'economia e delle finanze che tempo fa disse, pochi clienti, aiutiamo i ristoratori a cambiare attività. La mia provocazione? Io ho un ristorante, somministro alimenti e bevande, credo che sia una cosa essenziale, comunque è un'economia che ha un indotto ai fornitori, la produzione e tutto quanto. Nello stesso tempo però chi vende reggiseni, mutande e quant'altro può stare aperte. Io non ce l'ho con chi vende queste cose, anzi, assolutamente. Io ce l'ho con chi ha stabilito queste regole, che mettono comunque l'economia della ristorazione a suo indotto, la mette in croce, non gli ha la possibilità di vivere. Regenzani, come tutti i gestori di bar, ristoranti e alberghi, vive il difficile momento della pandemia e delle limitazioni. Anche lui, come tanti operatori del mondo del turismo, ha un brivido lungo la schiena ogni volta che Conte annuncia un nuovo DPCM. Vuol dire che il virus si prende quando vai a mangiare un piatto di pasta, un piatto di pizzoccheri, quando vai a sederti al ristorante perché magari sei in giro per lavoro? Non credo sia questo il problema. Nello stesso tempo abbiamo negozi dove uno può entrare, le cose sono toccate da mille persone, non c'è la sanificazione, mentre noi ci hanno imposto sanificazioni a tutti i tipi e tutti i livelli, ci hanno imposto di ridurre i posti a sedere del 50%, il plexica sulle casse e quant'altro. Vestazioni di ogni tipo e di ogni genere e adesso arriviamo, gli unici che devono chiudere siamo noi. Con Regenzani abbiamo giocato, lo preferiamo in cucina preparare pizzocri che non a vendere biancheria intima. La sua richiesta però è legittima, noi ristoratori non vogliamo finire mutande per colpa del governo. Chi ha emanato queste regole? in che mondo vive? Probabilmente non ha mai lavorato nella sua vita e non sa cosa vuol dire lavorare, cosa c'è dietro il lavoro, cosa c'è dietro i sacrifici delle persone. Questo è il vero problema. Il distanziamento dei tavoli c'è, menu plastificati, sempre sanificati, insomma si è fatto di tutto, ma quanto è triste vedere un ristorante vuoto, chiuso. Evidentemente dobbiamo fare anche delle riflessioni sui tanti che operano in questo settore e che ora sono in ginocchio. Ed è costata chiara, o per meglio dire salata, la voglia di Bresalva che ha spinto un lecchese a girare il divieto di oltrepassare il confine del proprio comune per raggiungere un negozio di Prata Camportaccio. Sentiamo. Ha violato l'obbligo di non abbandonare il proprio comune di residenza fatte salve le necessità di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. Un uomo originario del lecchese nel pomeriggio di sabato è stato fermato mentre in auto si recava presso un negozio di Prata Camportaccio per acquistare della Bresaula perché è più buona e conveniente, ha poi riferito ai carabinieri del comando di Chiavenna. La pattuglia dell'arma in servizio per verificare il rispetto della normativa anti-covid ha sanzionato l'uomo con una multa salata, è proprio il caso di dirlo, di 533 euro. I famosi 400 euro più un aggravio di un terzo per aver commesso il fatto utilizzando la propria auto. L'autore della violazione ha espresso la volontà di inoltrano ricorso per la contravvenzione ricevuta. E ci sono lavori che espongono più di altri al rischio di contagio. Uno di questi è senz'altro quello di chi ogni giorno suona le nostre case per consegnare raccomandate oppacchi. Nel 95% dei casi purtroppo gli operatori si trovano di fronte persone senza mascherina e senza rispetto, aggiungiamo noi, per la salute altrui. Sentiamo. Chiudete gli occhi e fate un salto indietro nel passato prossimo. Bastano 12 mesi. Lo scorso novembre nessuno quasi aveva mai sentito parlare di coronavirus e soprattutto mai e poi mai avrebbe pensato di utilizzare la mascherina in ogni momento della propria giornata fuori casa. Eppure sappiamo tutti com'è andata, come purtroppo sta andando e nessuno davvero oggi sa dire per quanto dovremmo continuare a sorridere con gli occhi e a non riconoscere gli altri per la strada. Premessa questa per dire che tutti ormai, ma proprio tutti, dovremmo saperlo. Mai senza mascherina. Eppure no, non è affatto così. C'è chi lo verifica ogni santo giorno, più volte al giorno. Quando suoniamo per le raccomandate o per i pacchi, il 95% delle persone scende senza mascherina. Non hanno rispetto per il prossimo. Di fronte a chi non si protegge, la soluzione è una soltanto, ed è quella che Yvonne adopta ogni volta. Cerco di stare un po' lontano, oppure se gli chiedo gentilmente di prendere la mascherina, se proprio dicono no, gli lascio l'avviso. Una brutta abitudine è quella di aprire il postino senza posizionare su bocca e naso la mascherina che addirittura pare essere più diffusa ora che durante i mesi del primo lockdown, questa primavera. Secondo me sembra stata la guardia, nel senso, a furia di sentire dire che il covid non c'è, c'è gente che è convinta che non c'è. Yvonne dice che ha avuto e continua ad avere paura di potersi contagiare svolgendo il suo lavoro. Gli aneddoti sono numerosi e lei si trova costantemente dalla parte di chi, proprio malgrado, è più vulnerabile. Sono il citofono, la signora scende le scale, ho la febbre, è signora, poi è senza mascherina, quindi gli metto la busta sul pianerottolo dicendole guardi io non mi avvicino, firmi, poi ho il gel in tasca, mi disinfetto, disinfetto il palmare. Ritorno la settimana dopo, ancora con un'altra raccomandata per la signora, sono in quarantena, però non mi metta l'avviso perché io non vengo a prenderlo e no signora gli ho risposto non sono in guerra, lei lascia l'avviso. Con il ricorso sempre più esteso all'e-commerce e il Natale in arrivo, il lavoro di consegna pacchi aumenterà di molto in queste e nelle settimane a venire. È il momento giusto dunque per mandare un appello forte e chiaro a chi i pacchi li riceverà a casa. Scendete con le mascherine, per favore, l'unica cosa che posso dire è quella, scendete con le mascherine che non costa niente. Siamo abituati ormai a indossarle tutti i giorni, quindi non penso che sia un problema, è anche una questione di evocazione e di rispetto. Chi fa il parrucchiere in un piccolo paese sa bene che per sopravvivere è indispensabile poter contare su parte della clientela proveniente da altri comuni. Un bel problema con l'ultimo di PCM che per le zone rosse prevede lo stop allo spostamento tra comuni. Taglio e messa in piega non rientrano tra i motivi classificati come necessità. Un parrucchiere di mazzo è convinto del contrario e ha spiegato prima al prefetto e ora anche a noi il perché. Sarà ora contento di scoprire la novità di questi ultimi minuti e che questo spostamento da domani sarà consentito. Sentiamo il servizio. Nel decreto si parla di necessità. Io penso che il parrucchiere oltre a instaurare un rapporto professionale con il cliente, instaurava un rapporto di amicizia e di fiducia. In questo momento molto particolare poter staccare un attimo la spina da tutti i problemi quotidiani e godersi mezz'ora per una messa in piega o per un taglio sia veramente una necessità. Si potrebbe aprire una questione squisitamente filosofica sul concetto di necessità, su ciò che è necessario e ciò che non lo è. In realtà in periodi come questi l'emergenza economica diretta a conseguenza di quella sanitaria impone ragionamenti molto più pragmatici. Da venerdì scorso, a differenza dei colleghi estetisti, i parrucchieri e i berbieri sono potuti restare aperti. Graziati dal più recente DPCM? Non proprio, soprattutto per chi ha negozi in un piccolo comune dove già prima non era certo possibile sbarcare il lunario, ancorciando i soli clienti residenti. Ma l'atto pratico non mi lascia lavorare, impedendo alla gente di potermi raggiungere da fuori paese. Questo vuol dire perdere almeno il 50% del lavoro. Senini, oltre al suo rappresentante di categoria, ha deciso di significare la propria situazione che poi è quella di tanti altri colleghi anche al prefetto, dai cui uffici ha tuttavia ricevuto una risposta che non fa che ribadire il divieto di oltrepassare i confini del proprio comune, se non per comprovate esigenze lavorative, di necessità o per motivi di salute. Un vero peccato perché Senini aveva pensato già anche a un possibile tracciamento dei propri clienti di fuori mazzo. Nel momento in cui il cliente mi prende l'appuntamento, io gli posso inviare un sms con l'orario e la data dell'appuntamento. Da legare all'autocertificazione necessaria, nel momento in cui ci dovesse essere un controllo da parte delle forze dell'ordine può presentare questo e far vedere che effettivamente viene da me così come può venire dagli altri colleghi. Purtroppo non se ne farà nulla e questo stop agli spostamenti, se Nini lo riconosce, colpisce seriamente anche altre categorie di lavoratori. Vorrei essere anche solidale con tutte le attività come la mia che si trovano in difficoltà in questo momento, quindi parlo dei meccanici, di tutti quegli artigiani che hanno un'attività all'interno del comune e non possono farsi raggiungere dai propri clienti. In particolar modo voglio essere solidale con tutti i centri estetici, le estetiste che non so per che motivo hanno deciso di far star chiuse. In realtà una spiegazione è se Nini se le data. Secondo me questa volta come parrocchieri, essendo veramente noi tanti in tutta Italia, ci hanno lasciato stare aperti perché? Perché almeno così non devono darci quei pochi contributi che ci hanno dato fino adesso. E se poi non possiamo lavorare, a questo punto è colpa nostra. Loro se ne lavano le mani. Un'edizione online ma che conserva il suo forte messaggio, sensibilizzare gli uomini sulle forme di prevenzione dei tumori maschili. La manifestazione Movember in Morbegno invita in tempi di pandemia a non abbassare la guardia sulle altre gravi patologie. Simone Belletti. Anche Movember in Morbegno alza bandiera bianca. La nona edizione sarà solamente in modalità telematica. Sostenere la prevenzione dei tumori maschili, il messaggio che vuole trasmettere la manifestazione. Novembre, come noto, è internazionalmente riconosciuto come il mese azzurro, dedicato alla prevenzione del tumore alla prostata e alle patologie che colpiscono il genere maschile. Cerchiamo durante questo mese appunto di porre l'attenzione su quelle che sono le malattie tipiche maschili, quindi tumore alla prostata, ai testicoli, al pene. Ci rivolgiamo alle fasce d'età più sensibili, cioè sopra i 50 anni per quanto riguarda gli uomini, ma non sottovalutiamo le patologie che possono insorgere già in giovane età, quindi appena usciti dalla pubertà, come appunto varicocielesi e altro. Se gli appuntamenti legati all'iniziativa salteranno per il Covid, rimane invece immutato il significato dell'evento. La sensibilizzazione alle malattie tumorali maschili dunque non si ferma. La particolarità di quest'anno appunto è che non riusciremo a fare i test dei PSA, che ci contraddistinguono in tutte le edizioni scorse che abbiamo fatto, grazie al supporto di Lilt e di Croce Rossa, ma non è un fermarsi o semplicemente rimandare. Rimanderemo questa possibilità di fare i test e le visite urologiche appena la pandemia sarà sotto controllo, diciamo. Se tutto il mondo è momentaneamente concentrato nel limitare la diffusione del coronavirus, non bisogna comunque abbassare la guardia nei confronti delle altre patologie. Il bilancio dell'ultima edizione aveva toccato numeri significativi. L'anno scorso siamo riusciti a raccogliere 8.000 euro che abbiamo donato alla Lilt, abbiamo fatto 211 esami PSA nella fascia d'età sopra i 50 anni e 18 visite urologiche. Appena tutto questo passerà e speriamo in fretta, cercheremo di battere i record dell'anno scorso. Per tutto il mese sarà possibile partecipare alla raccolta fondi sul sito www.movemberinmorbenio.com Maschietti, non facciamo gli eroi andare a chiedere un consulto al nostro medico di dovere quando c'è qualcosa che non ci torna. Questa è l'ultima notizia del nostro telegiornale. Ne approfitto per ricordarvi, dopo il Tg delle 19.15, il programma dedicato al futuro dell'ospedale Morelli, in studio assieme a Sara Baldini, il sindacalista Gerlando Marchicchia del comitato FSI-CSA, l'avvocato Ezio Trabucchi ed il dottor Giuliano Pradella del comitato di difesa. dell'ospedale Morelli. Appuntamento alle prossime edizioni del Tg di Telesondrio. Buona serata. Al quadrifoglio, a Sondrio, il punto di riferimento per l'abbigliamento classico e casual maschile. Al quadrifoglio, potrai trovare una vasta scelta di abiti, camiceria, maglieria, calzature e accessori uomo delle migliori marche. Al quadrifoglio, l'abbigliamento maschile di qualità, al prezzo giusto. Ci trovi a Sondrio, in via Caimi 72, telefono 0342 51 49 71. Per te, donna, che cerchi nella moda uno stile davvero personale, c'è New Probabile Donna, la boutique di Sondrio in via Mazzini 15, dove puoi creare il tuo look, al di fuori delle tendenze e correnti dilaganti. New Probabile Donna, da anni è il punto di riferimento per chi ama una moda semplice con un tocco di glamour. Un'eleganza decisamente sofisticata, con la passione per la ricerca del dettaglio e della qualità. New Probabile Donna, abbigliamento, borse, accessori e calzature. A Sondrio, in via Mazzini 15. Immaginari, l'idea che non avevi in testa. A Sondrio, in via Bonfadini 9 barra A, zona stazione. Orario continuato dalle 9 alle 19. Giovedì, aperto fino alle 21. Appuntamenti allo 0342 03 12 35. C'è un quai.